Siamo partiti già? Siamo partiti Questa partita è una partita che, non per il risultato chiaramente, ma per come l'hanno giocata, per come i ragazzi si sono messi in campo, è un risultato un po' fasullo A Cardiff noi siamo scesi tra l'altro primo tempo e il secondo tempo eravamo esistenti Oggi avevamo tutto botta a 90 minuti, intendo che Iguain fa un tiro al 91esimo Quindi oggi ci credevano ed è là che il problema, cioè la beffa quando ci credi Un conto è se demeriti un risultato, così ti ho a fuori tuo, e allora chiaramente se le prendi, le prendi Un conto è qua anche una partita che, ok, poi i gol come secondo me ne parleremo dopo Però per come la Juventus è entrata in campo, come ha giocato, come ha giocato anche molti singoli, brucia di più Perché alla fine gli errori sono individuali, quindi oggi si può dare una colpa di precisione a un giocatore presto con un altro E non al fatto di atteggiamento della squadra, o all'aspetto fisico, anzi, fisicamente oggi stanno tutti bene De Sciglio ha giocato a 90 minuti, che dire che si critica spesso, secondo me, tra i primi tre milioni in campo della Juve Insieme a De Sciglio e Dybala, forse no per la Rosso, ma Dybala sta giocando benissimo Quindi veramente oggi, tra i gol, un po' per merito degli avversari, il secondo gol di Ronaldo Un po' per demetto di un giocatore singolo, il primo gol E là, in teoria, credo che sia dovuto vedere la scosta Perché se De Sciglio va a prestare un giocatore, quell'altro l'ha preso Deve fare lo scambio in marcatura E il terzo, vabbè, il terzo era di sfidimento Partiamo con quello che è la formazione Oggi gioca con un centrocampo A2, Bentancur Chedira Inedito, nel senso che non ha mai messo un A2, Bentancur Chedira, credo Chedira che viene riconfermato, sta molto bene, credo che si increscenda anche l'oreo fisico Bentancur, che dopo ha fatto 10 minuti della partita, oggi è titolare Per quanto riguarda le altre difese, la difesa un po' mancava bene l'ATA Quindi mancano bene l'ATA, manca molto Bartali e Chiellini, oggi bisogna trovare delle colpe anche su Chiellini Soprattutto sul secondo gol, non sul secondo gol, insieme al gol Come arriva, se avessimo evitato quella mezza in frente di media tra lui e Buffon E la rovesciata, la rovesciata potrebbe farsi in spogliatoio Quindi tutto esce là Poi chiaramente c'è una rimarcatura di Ronaldo Perché, parliamoci chiaro, il primo gol c'è un erroraccio Il 90% dell'errore, secondo me, è su D'Agrascosta che non si segue il giocatore Però Ronaldo ha fatto un inserimento da banale Cioè l'avrei fatto anch'io, voglio dire Quindi, là, perché Barzagli e Chiellini su Benzemacher, anche per terra Cioè, inutilissimo Poi per il resto, a Samoa molto bene Che dire a Bentancur, molto bene, più che dire a Bentancur Bentancur è un giocatore ancora giovane Però, a corso, si vede che ha la stoffa per diventare un campione Poi, probabilmente, dovrà eliminare molte cose Tipo, Gialli, a caso, che prende A destra avevamo D'Agrascosta Che ha fatto una partita, oggi mi sento dire sufficiente E non di più Perché, secondo me, no? Alexandro, sufficiente Cioè, tipo, anonimo Non è che dico Ha fatto male o ha fatto bene Non ha fatto niente Non ha fatto niente Neanche troppi errori Non ha fatto niente E poi avevano andato Di Bala e Guain Che, secondo me, ha giocato bene Soprattutto Di Bala Che ha veramente fatto molto bene E il rosso Cioè, non è da valutare, secondo me Nella prestazione Cioè, non ha influito sul risultato Ecco, diciamola così E... Qualcosa a dire? Non si fa nessuno Il commento tecnico Perfetto Non c'è niente da aggiungere Mi dispiace Ecco, un commento personale Magari Emotivo Mi è spiaciuto tantissimo Vedere i ragazzi Sia di Bala Che dopo i ragazzi Quando sono usciti Cuppi in viso E rassegnati Che quello è un po' Un campanello d'allarme Perché se Escono incazzati Con... Cioè, proprio Vuol dire che hanno voglia Di fare Voglia di ricominciare da capo Di trovare un punto di svolta Un punto di inizio Per fare meglio Vederli così rassegnati Vuol dire che Capiscono di aver raggiunto Un limite Un certo limite Ed effettivamente Sono rassegnati come noi Cioè, nel senso Sanno di aver fatto Una buona partita E si è stato fregato Per... Bisogna Adesso sta Palla ad Allegri Nel senso che sta lui Trovare una motivazione Diversa E dire Ok, siamo noi Ricominciamo Da... Da qui E... O si... O si... O si punta Sul mercato Qualcosa di... Che possa far... E... Inbogliare Inbogliare Sia il resto della squadra Sia noi tifosi Beh, c'è anche... Ci sarà anche un ricambio Probabilmente Tra quale il prossimo anno Però c'è da dire anche Che... La delusione sta Che... Questa poteva essere Una rivincita Perché le rivincite Siano solo partite pari Cioè finale finale Non finale quarto Però è anche vero che Quando ti arriva Una sconfitta uguale A quella della finale E secondo me Anche più demeritata Cioè sicuramente demeritata Quella della finale È meritatissima Della sconfitta nostra Dici cavolo Quello è il limite Che non possiamo mai Trapassare Non potremo mai fare... Mai vincerla Cioè mai fare come loro C'è poco da fare Noi tifosi vorremmo Lo scudetto subito Perché lo scudetto È perché in Italia È giusto continuare Però sinceramente Poi alla fine ragazzi Quando... Cioè... Abituarsi solo A vincere in Italia Come se fosse La cosa più bella In effetti da fare È provincializzare Quella che è una squadra europea È limitarla Bello Ma lo scudetto È talmente una cosa banale Anche se quest'anno È un po' più combattuto Che è un po' meglio Mi piace anche di più Ma semplicemente Perché il Napoli È un po' più forte E noi abbiamo questa cosa Di gestire Giustamente 50 per 3 l'anno Però è anche vero Che in Europa Le emozioni più grandi ragazzi Le delusioni più grandi sono qua Come sono... Perché le finali scottano? Cioè... Perché le finali europee Hanno un peso Abbiamo perso Scudetti Abbiamo perso Coppa Italia Ok... Però le finali Champions League Sono un macigno E non è per questo Io voglio dire Ah ok Le perdiamo È secondario No... L'Europa è primaria Cioè... Non primaria Perché poi alla fine La cosa importante è continuare a vincere Scudetti E stare i primi tre posti Quattro per accedere la Champions Per i suoi discorsi di soldi Però poi Le soddisfazioni Cioè le noti di Champions Sono quelle che... È là l'emozione più grande Eh sì Tranne qualche partita del campionato Quei là Ma poi Benevento Spall Sono punti importanti per il campionato Ma sono partite che... Sono pro forma Sì E basta Quindi ragazzi È una delusione molto grande E stiamo già parlando Come se la Lui sia uscita F... 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 Cioè Oggi All'inizio c'era molto Sono stato blocato anche chiaro reat anche se Chedira Ok Però è a uno stadio morto C'è la curva che si sente qualche volta Ma il resto non si sente Ma l'alerta Cioè ci ta Cioè si sta Cioè dai non un stadio E' anche vero che lasciare lo stadio 10-15 metri prima perché la Juve sta perdendo quello è una cosa vergognosa una mancanza di rispetto verso se stessi perché i soldi non sono un problema per questa gente perché in tribuna magari ci va non ci va chiaramente la persona normale come noi che spende 50 euro 80 euro in questo caso per la curva ma ne spende 250 però credo che al di là di tutto è un discorso più profondo del mero aspetto economico che è quello di mancanza di rispetto c'è un momento in cui la squadra bisogna del sostegno non è quando stiamo vincendo 4-0 la può anche andare via ma è come in questi momenti e mancare così si vede perché i discorso sono bianchi e la gente è nera vestita di blu e nero si vede la copertura della gente sugli spalti credo che se ne manca il rispetto che va oltre e quindi poi non lamentatevi più che altro giustifica comunque un sentimento di rassiniazione da parte dei giocatori dicono che neanche il tifoso interessa va via ma la cosa bella nel senso che uno si va via e poi non si lamenta più è un conto ma questi qua sono quelli che poi si lamentano anche la squadra qua la squadra là le gri via ecco se dovete andare via non tornate più allo stadio mi rilogo a quelli che erano in tribuna perché le curve le ho viste ancora piene soprattutto l'assurdo ma l'assurdo sappiamo che nel bene o nel male il piaccio non piaccia in effetti lo sostegno è l'assurdo e poi uno può avere le simpatie e condividere un certo tifo o un altro però per quanto riguarda le gambe che c'è con la squadra credo che sia abbastanza insolubile e anche la Nord l'ho vista ancora piena forse perché in effetti forse sono persone con meno soldi quindi hanno un po' il volo neanche hanno un po' il cuore hanno un rispetto delle se stessi però a tribune avete fatto una cosa schifosa e mi appello a non quelli che sono rimasti che c'erano ancora qualcuno ma quelli che credo prima o che domani mercoledì si lavora ma non credo che sia quello il motivo perché se avessero usato il vostro stato al contrario sicuramente avrete fatto festa fino alla notte vergognatevi cioè vorrei essere lì al vostro posto anche stando zitto per la delusione ma insomma alla fine come abbiamo fatto noi nel live è giusto sì quando abbiamo fatto la reaction c'è tipo fino al 2.0 c'è ancora qualche poi c'è un caldo di alta siamo noi stralaccati così con la porta e lei fuori di giro siamo già a lavoro domani praticamente e dopo questi ragazzi vi lascio fare un saluto ciao a tutti ci vediamo con il ritorno no si vediamo sono un trasferto va bene ci vediamo con un'altra live reaction che dobbiamo farla sto anno quindi sarà una partita ben divertente la finale di Coppa Italia ci rimane quella perché poi il campionato non lo guardiamo mai qua e la finale di Coppa Italia si lo guardiamo a casa sarebbe da fare un'ultima di campionato con la radiolina da una parte o col cellulare con l'epice da una parte e vedere la partita va bene comunque sicuramente faremo la reaction a caso di qualcuno di noi per la Coppa Italia perché la guardiamo sempre le Coppa Italia insieme quindi fa giusto magari c'è anche Pietro non so ciao Pietro ciao Pietro ci manchi no è una prova e tutto questo ragazzi forse come sempre poi c'è tutto in questo caso siamo rimasti fino alla fine a guardarla senza paura di fronte qua non ci siamo tirati tagliamo un pochino no non importa è un video importante fino alla fine fino al confine fino al confine come dirà qualcuno mi sembra giusto no a Gandalf è tutto è vero Gandalf ciao ciao paura 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 paura